Allora questo è il percorso. I will make a little movie. Yes. Ok. Allora questo è il passaggio. Sono le scale abbastanza comode. I'm just looking for the video. Vediamo quanto tempo ci va per salire su. Le scale sono comode. Non c'è nessun problema con il polvere sporco. Altra porta. Qui c'è un po' di zotteria ma la metteranno a posto. Le scale diventano un pochino più strette ma neanche tanto. Anzi sono come prima. Sembra molto interessante questa cosa. Ottimo. Siamo quasi arrivati. Eccoci qua. Eccoci qua. C'è un piccolo corridoio. Come si vede. La situazione è molto sicura. Ecco. Allora qui c'è la posizione di un secondo direttore che potrebbe stare sulla balconata dell'organo. Qui si vede. Gli altri sono davanti. Ottimo. Si vede perfettamente l'altro direttore laggiù. Ecco. Molto bene. Andiamo in giro. Eccoci qua. E si gira tutto intorno. E si gira tutto intorno. Sì. Non è mai sufficiente per me. No? Non è ancora più. E qui si può... E qui si può continuare? All'arredo? No. 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 Ok. 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 Very good. Grazie. Grazie.